Prova a dotarsi finalmente di una palestra alla scuola primaria Don Bosco a Polignano. L'amministrazione comunale ha infatti partecipato ad un bando statale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, che mette a disposizione 18 milioni di euro per gli impianti sportivi annessi alle scuole cittadine. La Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare propedeutico alla partecipazione al bando e che prevede 600 mila euro complessivi di intervento. 480 mila euro sarebbero finanziati dal Ministero, se il progetto risulterà vincente, altri 120 mila euro sono di cofinanziamento comunale a valersi sul bilancio 2013. Il progetto, redatto dagli ingegneri Centrone e Scagliusi, prevede la costruzione di un campo di pallavolo nel lato della scuola elementare, regolamentato secondo le regole del CONI, la copertura totale, la tribuna spettatori e servizi annessi. Dopo l'intervento sul tetto e il ripristino delle facciate esterne, se il progetto palestra andrà in porto, la scuola Don Bosco tornerebbe completamente a nuovo. È un fatto fondamentale, dice al nostro tacuino Salvatore Colella, delegato ai lavori pubblici. La scuola più antica di Polignano era sprovvista di palestra. Con questa occasione, se il progetto verrà finanziato, speriamo di dotare i ragazzi e gli studenti di un'area ludica e sportiva che finora è mancata. L'esito del bando si conoscerà entro 90 giorni.